Bentornati, ricordatevi dei vostri problemi. I problemi li avremo se non ti dai una mossa! Niente male. Opinione del cliente registrata. Com'è il nostro mezzo? In ottime condizioni. Purtroppo però siamo inseguiti. Spera me! Il mezzo è attivata. Mantenete la calma. La calma! Nostro dirlo in vista. Ah, cazzo! Ah, verità!